Come si fa a capire quando il mercato delle criptovalute potrà iniziare una nuova alt season cioè potrà iniziare ad avere quell'enfasi, quella FOMO, quella Bull Run che poi ha caratterizzato tutto l'intero mercato per l'anno 2017? Esiste un modo, esiste qualcosa che possiamo guardare a parte il grafico di Bitcoin per capire a che punto siamo, cosa sta cambiando, il mercato ancora reagisce ha ancora l'inf, ha ancora qualcosa da dare o semplicemente si è tutto spento? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video oggi parliamo di criptovalute, mercato in generale andremo a guardare dei grafici per rispondere a una domanda la domanda che un po' frulla in testa per tanti criptoinvestitori e cioè le altcoin hanno ancora un super sprint da fare? arriverà una nuova alt season? Qual è l'indicatore? Qual è il grafico più importante da guardare per rispondere a questa domanda? Ma prima di andare a vedere quelli che sono tre grafici che ho preparato per voi ci faranno capire un po' quali sono i livelli che vanno monitorati e perché no ragazzi a che punto siamo dopo al ving di Bitcoin? c'è stata questa pausa di respiro prima di andare ragazzi però vi chiedo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e come sempre lasciatemi un pollice mi aiutate non poco anche con l'algoritmo ragazzi quindi su con i pollici per far girare questi video poi fatemi anche sapere quello che pensate perché le altcoin sono effettivamente un bellissimo argomento anche molto complesso perché sapete che moltissime sono ritenute anche scam molti le snobbano per una serie di motivi io le guardo poco a parte le più importanti perché quando si fa analisi quantitativa ragazzi servono dati importanti già Bitcoin ne ha pochi quindi figuriamoci alcune altcoin che sono veramente minuscole però sono anche il termometro di quello che è l'intera struttura criptovalute ragazzi sono un indicatore di quello che può succedere se arriva una nuova bull run ci siamo? Spostiamoci sui grafici ed eccoci davanti al primo dei tre grafici che guarderemo oggi ragazzi il grafico della dominance di Bitcoin da questo grafico quello che possiamo vedere è che in questo momento esiste una fortissima debolezza delle altcoin nei confronti di Bitcoin ragazzi perché la dominance di Bitcoin è fortissima e dal massimo del 2017 quindi gennaio 2018 ragazzi non si è più fermata trend rialzista non ha mai invertito e continua ad andare su ragazzi cosa succede se la dominance di Bitcoin sale senza fermarsi succede che viene cannibalizzato l'intero settore delle altcoin soprattutto le più piccole a favore di Bitcoin che si mangia tutti gli andamenti tutte le altcoin perché? Perché semplicemente vuol dire che quelle altcoin verranno un po' dimenticate e spesso il money presente all'interno delle altcoin più piccole si sposta su Bitcoin perché Bitcoin è più prudenziale ragazzi ed è anche uno strumento che dà maggiore sicurezza a un investitore soprattutto nei momenti di mercato down infatti ragazzi nella dominance si vede che durante la fase del mercato ribassista delle criptovalute Bitcoin è salito ragazzi quindi in tutta questa fase perché ricordiamo che ancora il trend di Bitcoin ragazzi e del settore cripto è laterale ribassista se volessimo dargli una definizione direi un po' più laterale ma comunque non è rialzista ragazzi perciò in questa fase abbiamo visto abbiamo notato come Bitcoin è iniziato a cannibalizzare tutte quelle altcoin più piccole e si è mangiato la loro valorizzazione riportandosi a soglie di addirittura dominance ragazzi intorno al 72% ora c'è anche una forma ciclica di questa dominance la vedete che sembrerebbe indicare un'altra impennata di Bitcoin tra un po' e poi la conclusione ma quello che è più importante ragazzi è andare a capire che fin tanto che questo grafico della dominance continua a crescere difficilmente avremo un settore criptovalute che va in FOMO che va in bull run ragazzi fin tanto che questo indicatore cresce in maniera sostanziosa ragazzi in maniera importante non ci sarà un'altra alt season inutile che stiamo lì a ragionare perché perché significa che il mercato è ancora debole tutta quella che è la liquidità più importante l'istituzionale e quant'altro viene ad essere in girata su Bitcoin perché Bitcoin ragazzi è la criptovaluta più sicura però se guardiamo solo la dominance che è un indicatore derivato ragazzi derivato dai rapporti fra le criptovalute non ci possiamo rendere conto di quello che può essere effettivamente il settore altcoin perché qui guardiamo in effetti la dominance di Bitcoin ma se io volessi prendere in esame il settore proprio altcoin togliendo Bitcoin dal mercato allora vi faccio vedere questo indicatore che ritengo estremamente importante ragazzi allora questo indicatore è la cripto total market cap la trovate qui ragazzi su TradingView escluso Bitcoin ovviamente calcolato sempre da TradingView è la market cap ragazzi delle altcoin questo è l'indicatore più importante per capire come va l'intero mercato criptovalute anche con le scam coin più piccole cioè con come funziona la valorizzazione del mercato è una specie di valore totale del mercato criptovalute ragazzi ed è importantissimo valutarlo perché ci può dare il polso ci può indicare se questo mercato ha ancora tanto da dare escluso Bitcoin quindi solo quello delle altcoin oppure ha già dato tutto vi faccio vedere intanto il solito problemino ragazzi della visualizzazione del grafico passando dal grafico logaritmico a quello semplice intanto cosa succede ragazzi se escludiamo l'anno della bolla in fase precedente al 2017 ragazzi guardate qual era il livello della market cap delle altcoin prima ragazzi della bolla del 2017 quindi se arriviamo a dicembre 2016 ragazzi guardate qui questo è gennaio 2017 e la valorizzazione della capitalizzazione per le altcoin e le criptovalute era di soli 750 circa milioni di dollari ragazzi io so che guardando adesso la capitalizzazione ci sembra che il mercato abbia fatto in effetti una fase ribassista molto imponente però ragazzi questo è anche un po' il modo in cui si guardano i grafici e il modo in cui il grafico mente ragazzi perché quando c'è un'esplosione dei prezzi come quella avvenuta durante la bolla del 2017 guardare un grafico in maniera semplificata ci porta un po' fuori mano allora ragazzi qui è avvenuta sicuramente una bolla gigantesca insomma eravamo arrivati a 450-500 billion di capitalizzazione una cosa abnorme ma poi nella fase ribassista si è rimangiato tutto come si fa a capire il vero trend? bisogna mettere la funzione logaritmica quindi vediamo che in effetti questa fase di ribasso anche nel mercato altcoin che sono scam abbandonate da tutti diciamo così ragazzi però poi andiamo a guardare il grafico e il grafico non ci dice questo ragazzi certo se guardiamo l'intera capitalizzazione considerando anche bitcoin che è quest'altro indicatore vediamo e notiamo che c'è un andamento leggermente più rialzista rispetto vedete a quello che hanno le sole altcoin questo perché bitcoin se le mangia ragazzi in sostanza bitcoin è la vera forza di questo mercato e quindi dà molto spazio alla market cap di salire perché incide di più sulla market cap ragazzi circa 180 miliardi è solo la capitalizzazione di bitcoin ragazzi quindi è chiaro che se io vado a guardare la market cap con bitcoin non mi rendo conto effettivamente del settore per vedere questa cosa qui c'è una pendenza maggiore ovviamente più rialzista perché bitcoin è più forte ragazzi però quello che volevo farvi capire è che questo grafico guardato in funzione logaritmica non è un grafico terribile non è assolutamente quello che è sembrato cioè la distruzione del mercato criptovalute il fatto che siano scam tutte di defunte non funzioneranno mai più non avranno mai nessun ruolo non è così non è quello che stiamo vedendo in questo grafico poi sicuramente ragazzi molti progetti lo sappiamo verranno abbandonati e questo può essere anche un grafico di distribuzione ma fin tanto che non si assiste a una fase che magari può essere questa ragazzi quindi questo livello adesso ci arriveremo tra pochissimi secondi a trattare questo livello fin quando non si scende al di sotto e questo grafico ragazzi resta in un grafico che ha avuto un fortissimo trend rialzista e adesso sta in una fase di congestione che può essere due cose o una distribuzione speriamo di no oppure un respiro per una ripresa del trend rialzista e qui arriviamo alla parte operativa ragazzi per capire se effettivamente inizierà o meno una nuova bull run a livello di altcoin quindi un alt season ragazzi basta guardare questo grafico facciamoci indicare quali sono i livelli importanti li vedete già li ho indicati in viola ma soprattutto ho messo l'alert ragazzi io stesso relativo a questi livelli quindi andiamo subito a vederli e qui con questo grafico che terrò nel mio portafoglio da investitore da analista relativo al mercato dell'ecrito e sarò sempre vigile ragazzi lo guarderemo insieme nei prossimi settimane se il mercato ragazzi sale al di sopra di questo livello di questo qui indica in pratica una ripresa abbastanza significativa del mercato altcoin ragazzi con il mercato altcoin in ripresa figuratevi cosa succede anche con bitcoin quindi bitcoin darà ancora più sdlancio quindi una cosa bellissima da vedere sarebbe il superamento di questi massimi che coincidono con i 115 billion di capitalizzazione per quanto riguarda il mercato altcoin e poi la seconda parte con i 150 billion quindi dovremmo avere un break dei 115 billion già questo un segnale molto forte nel breve periodo ma poi solo e solamente al di sopra dei 150 billion ci sarebbe una ripresa del trend ragazzi che abbiamo visto precedentemente che poi magari non avrà la stessa pendenza questo io lo penso ragazzi cioè probabilmente non assisteremo a una nuova bolla questo assolutamente no però ci darà un'indicazione se avviene una cosa del genere di ripresa di un trend rialzista delle altcoin e solo in quel caso ragazzi mi vedrete iniziare a fare anche analisi tecnica e ciclica sulle altcoin più importanti che ritengo più valide e anche per questo motivo che in questi anni ragazzi ho un po' accentrato tutto il discorso su bitcoin proprio perché non aveva molto senso andare ad attendere 2, 3, 4 anni che un mercato faccia diciamo il suo trend nuovamente rialzista perché se non lo fa che stiamo a fare insomma ok è nella speranza ragazzi basta guardare i grafici da un punto di vista ribassista invece questo segnale 34 billion ragazzi sarebbe terribile per il mercato delle altcoin ragazzi sarebbe veramente difficile ora se si ci arriva ma il mercato poi dimostra forza come ha fatto a marzo vedete l'ha fatto qui quindi subito forza lo posso anche accettare ragazzi ma preferirei e sono sincero che il mercato delle altcoin non arrivasse mai a 34 billion di capitalizzazione perché significherebbe nel complesso un crollo di valorizzazione delle altcoin e di conseguenza una prematura scomparsa poi di un settore o comunque un abbandono di un settore anche per molto tempo ragazzi perché spesso poi accade così magari poi il settore si riprende dopo 5-6 anni ma non è quello che vogliamo quello che ci attendiamo in questo momento è nella diciamo nostra aspettativa la cosa più importante è il break di questi livelli ragazzi io ho messo il mio alert vedete su training view se lo fa attenzione indicazione di nuovo alt season possibile indicazione di nuovo bull run possibile bene ragazzi vi ho detto tutto quello che c'era abbiamo un nuovo grafico abbiamo una nuova informazione non soggettiva ma oggettiva con un dato numerico da guardare come deve fare un analista come si ci deve comportare quando si fa un investimento e lo si vuole fare nella maniera giusta ragazzi non inventandoci follie e previsioni di prezzo immaginario va bene allora io vi saluto vi ringrazio come sempre iscrivetevi se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti